Buongiorno a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accompagno nel comune di Agno, siamo in una posizione strategica pianeggiante, vicina ai principali servizi, possiamo arrivare in 5 minuti d'auto a Lugano e in pochi minuti anche nel centro di Agno, quindi nella zona di Agno con Migros e tutti i principali servizi. Quello che visiteremo oggi è un bellissimo tre e mezzo locali moderno di ultima generazione, che ha pochissimi anni di vita, è pari al nuovo, è dotato di questo giardino in cui ci troviamo in questo momento, che ci tengo a farvi vedere nella sua interezza perché è un giardino di ben 250 metri quadrati e quindi è l'oggetto ideale per coloro che cercano un bel tre e mezzo moderno e spazioso e un giardino di ampie dimensioni. Adesso seguitemi che vi accompagno all'interno per iniziare a vedere gli spazi, ma prima di entrare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche con la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità immobiliari di Metropolis. Venite con me che vi accompagno nella zona living per iniziare la visita. Bene, dal giardino quindi accendiamo nella zona living, dove abbiamo un soggiorno come vedete stupendo, con lo spazio per un bel angolo divani tv. Come vedete è tutto ben organizzato, come nuovo. Qui abbiamo un'ampia area pranzo, dove ci sta un bel tavolo da pranzo, con questo affaccio stupendo sul giardino. L'appartamento inoltre è dotato di aria condizionata, abbiamo serpentine a pavimento, delle bellissime finiture, dei serramenti come vedete importanti con doppio vetro. È una realizzazione di pochi anni, quindi circa 2016 come anno di costruzione. Abbiamo una cucina completamente accessoriata, con lavastoviglie, forno, congelatore e quindi separata, si può dire. E qui accediamo a una delle due camere, come vedete una camera decisamente molto spaziosa, con l'affaccio chiaramente sul giardino, così come tutti i locali di questa unità. È quindi interessante perché possiamo accedere al giardino tramite tutti gli spazi, quindi sia dal soggiorno sia dalle camere. E adesso vi riaccompagno passando dalla zona living, così da poterla vedere anche da questa prospettiva e quindi poter ammirare anche la bellezza di questi spazi luminosi con l'affaccio sulla terrazza, anche sul giardino. Come vedete abbiamo anche una parte terrazzata, tende da sole, apparelle elettriche, quindi tutte le dotazioni veramente degli stabili moderni. E poi accediamo alla seconda camera, che è una camera che può essere ideale per un bimbo, eventualmente per un ragazzo, e dotata di un bagno padronale. Quindi eventualmente potrebbe essere configurata come camera master, con un bel bagno con vasca, ovviamente bagno finestrato, quindi abbiamo una dotazione interessante perché possiamo mettere anche la colonna lavasciuga direttamente all'interno del bagno. Adesso vi riaccompagno, passando nuovamente appunto da quest'area, nella zona living, così da fornirvi tutte le informazioni relative all'unità che abbiamo appena visto. E prima di arrivare appunto alla fine del video vi mostro anche l'ingresso dove abbiamo un altro bagno con doccia, molto bene finito anche in questo caso, figlio scintofono, chiaramente abbiamo davvero tutte le dotazioni, un bel disimpegno all'ingresso e appunto subito questo bel bagno che eventualmente può essere un bagno ospiti ma con la doccia. Adesso venite con me che vi informo su tutti i dettagli relativi all'appartamento. Siamo ad Agno, in una posizione molto favorevole, pianeggiante, siamo tra Bioggio e il centro di Agno, quindi in una posizione anche molto soleggiata e molto ben servita. L'appartamento che abbiamo visto è un tre e mezzo locali di circa 100 metri quadrati, con un giardino di ben 250 metri quadri interamente pianeggiante, quindi è come avere un giardino di una villetta, quindi assolutamente ideale per chi cerca grandi spazi esterni molto ben curati. È uno stabile come nuovo, si può dire pari al nuovo, abbiamo la dotazione dell'aria condizionata e quindi un oggetto ideale per coloro che amano anche le cose moderne di ultima generazione, con tapparele elettriche, tenne da sole e insomma tutte le dotazioni desiderabili. Nella descrizione arriveranno a breve tutti i dettagli relativi all'unità che è anche dotata di posto auto e cantina e come dicevo arriverà nella descrizione quello che è il dettaglio con tutta la descrizione e anche il link per poter accedere alla scheda direttamente all'interno del nostro sito. Nel frattempo, se state guardando questo video in anteprima, quindi siete iscritti al nostro canale e siete ovviamente interessati a maggiori informazioni o a effettuare una visita poiché ritenete che l'oggetto è l'oggetto interessante per voi nella zona che state ricercando, non esitate a contattarci tramite il numero che vedete qui sotto oppure il sito metropolisimmobiliare.com così da rimanere appunto aggiornati e poter essere messi in contatto con il nostro consulente per avere maggiori informazioni e quindi per poter organizzare la visita. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre di mettere like al video se vi è piaciuto e di farci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo immobile e se avete delle domande e ovviamente di iscrivervi al nostro canale youtube e di attivare le notifiche con la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di metropolis e riceverli quindi in tempo reale. Prima di salutarci vi ricordo anche di farci sapere se avete un immobile da vendere nel lugarese, nel crisiotto, locarnese o bellinzonese poiché abbiamo centinaia di clienti qualificati e soltibili e potremmo essere la soluzione ideale per vendere il vostro immobile nel minor tempo possibile e alle migliori condizioni possibili. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa bellissima giornata a visitare questo ampio e luminoso tra e mezzo locali con giardino ad aglio. Vi auguro una splendida giornata e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.